Sono Riccardo Depra e questa è la mia casa, il mio ristorante. È un ristorante che c'è da ormai cinque generazioni. Quando ero giovane, per fare esperienza, ho girato il mondo e in particolare in Giappone, in un periodo di due anni, ho capito che la massima qualità si ottiene con la dedizione, con la costanza, con la ripetitività, con l'uso di strumenti straordinari. Strumenti che sono stati fatti a loro volta con la ripetizione, con la dedizione, con la costanza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.